Ecco, aspetta, cosa qua? Ecco, dovrebbe essere questo... Ah, ehm... Chiuso. Chiuso il martedì. Oggi è martedì. E vabbè, allora... Sushi. Sushi. Pizza. Nessuno sporco è impossibile per la rivoluzione delle pulizie domestiche. Floor Police. Il potente spin mop automatico, leggero e senza filo, che lava via i pasticci in modo facile e veloce. È così leggero che puoi sollevarlo con due dita. I due pad rotanti in microfibra con 100 rotazioni al minuto fanno tutto il lavoro di pulizia. Così, non devi farlo tu. Il segreto della sua velocità di pulizia è il potente motore elettrico e la batteria a litio ricaricabile che dura abbastanza lungo per pulire tutta la casa. Basta aggiungere il detergente e guardarlo fluttuare sul pavimento. La testa girevole può facilmente pulire dentro e intorno gli ostacoli e andare in profondità sotto i mobili o sulle superfici verticali, sui gradini o sulle basi sporche e polverose. I tappetini sono lavabili, così da poterli usare ancora e ancora. Nessuno sporco è impossibile per la rivoluzione delle pulizie domestiche. Flor Police. Chiama per informazioni. L'offerta include oltre ai due panni in microfibra anche due spazzole abrasive totalmente gratis. Le spazzole sono perfette per affrontare i pasticci più difficili dalla doccia o per pulire la vasca da bagno senza doversi piegare. E c'è di più. In omaggio anche i due cuscinetti per la lucidatura. Torna a far brillare qualsiasi superficie in un istante. Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Flor Police. Chiama per informazioni o vai su eclshop.tv Cinque amici. Il sogno di aprire un agriturismo. Ma i guai arrivano sulla vecchia quattro ruote. Noi e la Giulia. Domani sera alle 21 su Cine34. La forza delle origini. Terre d'Hermes. San Viterra dà colore al tuo aperitivo. San Viterra. Tutti i colori dell'aperitivo. È partita la nuova TV digitale. Il tuo vecchio TV è rimasto al buio? Ugo, lo sai che puoi rottamare il tuo vecchio televisore con il nuovo bonus TV disponibile per tutti? Scegli un televisore o un decoder con il bollino alla TV. E godite al meglio lo spettacolo della nuova TV digitale terrestre. E' arrivato il sottocosto winter party di Euronix. Nuova LG OLED TV 55 pollici 4K a 1299 euro. Xbox Series S più Forza Horizon 5 a 299 euro. Euronix. Un mondo più avanti. Lunarosa Ocean. A nuova fragranza da Prada. Ogni giorno devi scegliere, scegliere, scegliere. Fino ad oggi. Perché arriva la lavatrice intelligente LG IDT che ottimizza il programma di lavaggio scelto per un 18% in più di cura per i tuoi capi. LG. Life is good. Cavaliere, ma perché è questa? Per una signora di Milano. E queste bontabio? Queste per una mamma di Napoli. E quelle là? Per un buon gustaio di Palermo. Quindi per MD ogni cliente è uno di famiglia. Una famiglia che cresce ogni anno. E a Natale gli aiutiamo con tante idee. Buonissime anche nel prezzo. E a Natale lei cosa fa? Che auguri! MD! Buone feste Italia! The Fragrance for Her Narciso Rodriguez La difficoltà di deglutizione può diventare il centro dei tuoi pensieri. Mal di gola? Puoi trovare Ben Active Dolgo la Sprite. Il suo principio attivo combatte l'infiammazione donando un rapido sollievo fino a sei ore. Ciao, ciao Mal di gola! Contro il mal di gola forte, Ben Active Dolgo la Sprite e il nuovo Ben Active Dol med al gusto limone e miele. It's gonna take time A whole lot of precious time It's gonna take patience and time To do it, to do it right I got my mind set on you 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 L'America ha scoperto l'Italia è arrivato un nuovo Italian King carne alla griglia da allevamenti italiani con salsa di pecorino romano scamorza e pomodori secchi nuovo de pecorino romano e scamorza burger solo da Burger King A Natale puoi fare quel che non puoi fare mai e a Natale, a Natale si può fare di più per noi a Natale puoi stress da compere natalizie? niente paura ci pensa Lidl ogni giorno tante offerte per il tuo benessere quotidiano questa settimana termoforo a 17,99 euro scaldaletto a 17,99 euro buone feste da Lidl non ti fai fai del tuo libertà Libra Libra l'original eur de parfum Yves Saint Laurent happy holidays sono tu da un euro con una spesa di 500 euro hai subito uno sconto di 100 euro con una da mille 250 euro e con una da duemila uno sconto da 500 euro perché un euro batte forte sempre oggi è super preso bene quindi è super simpatico però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa amore veniamo da due famiglie molto diverse tra loro guarda che dolore di impatto non è poco da 1 a 10 quanto ti sono mancato? due oltre vogliamo fare se arrivo tranquillo fai det befe ragnet dal 1891 chardilac crea biscotti che diventano storie di Natale deliziose raffinate golose uniche e diverse sorprendenti e anche magiche eh sì Delacre ha un biscotto per tutti beh quasi tutti Delacre l'emozione delle feste dal 1891 tifosi cuochi truffatori ballerini seduttori famo strano se c'è davvero un'arte in cui noi italiani ci facciamo riconoscere in tutto il mondo è il cinema il cinema è italiano sono un music di sicca the top loro hanno questo grande potere i nostri veri ministri degli esteri lui era la luce Cine 34 sostiene la ripresa della nostra arte nel fare film con un omaggio esclusivo i protagonisti raccontati dai protagonisti il cinema italiano raccontato da Cine 34 non avevamo copione felici come pazzi di andare lì a giocare noi siamo cinema in prima tv giovedì 16 dicembre alle 21 un punto è un punto piccolo quanto mi piace leggere l'elenco delle pizza anche se poi prendo sempre la margherita anche perché diciamocelo la vera pizza napoletana ormai si trova soltanto a Savona è il vero babbaso la Courmayère che ridere sentite questo ieri pomeriggio mi trovo a casa di questa sciura una tutta liftata orenna col cappello cotonato bione se non si poteva guardare siamo lì che scegliamo le stoffe per il suo tendaggio a un certo punto questa mi va in fissa con la peonia che già lì a buona